Radio Radicale, siamo con l'On. Giulio Centemero della Lega per parlare di Libano. Il Ministro degli Esteri italiani ha invitato gli italiani a lasciare questo paese. Si teme il peggio dopo quello che ha minacciato l'Iran di attaccare Israele. Gli attacchi potrebbero arrivare anche da Libano, da Hezbollah. Allora, che situazione c'è nel paese? Quali sono i timori? Sappiamo che Libano è un paese composito dove vivono cristiani, musulmani. Insomma, cosa teme? Il Libano è un paese molto composito. Ci sono almeno 14 sette diverse riconosciute nella Costituzione che di fatto personalmente considero quasi come un accordo di cessate il fuoco tra le varie fazioni. Tanto che quello che è mancato nel paese dei Cedri è stato un po' quello che si chiama state building. Anche perché forze esterne non l'hanno consentito. Quindi si è trasformato in una sorta di paese cuscinetto che ha sempre sorpassato le crisi in maniera quasi miracolosa. Anche l'ultima esplosione del porto, il blocco del sistema finanziario, insomma, una povertà crescente. Si parla comunque di un paese piccolo con una popolazione di circa 5 milioni di persone ma appesantita dal fatto che ci sono i profughi siriani, i profughi palestinesi ormai da decenni. Vengono trattati meglio della popolazione libanese? Questa è una polemica che c'è stata? Dipende, nel senso che di sicuro non hanno documenti, non hanno spesso cittadinanza, i profughi palestinesi, hanno però l'assistenza dell'Urwa e delle organizzazioni internazionali su cui tanti libanesi non possono contare. Quindi diciamo che nelle fasce più deboli della popolazione è un po' una guerra tra poveri, mettiamola così. Dopodiché, in altri casi, no, non possiamo dire che sono trattati meglio della popolazione locale. Di sicuro il Libano è stato un po' quasi lasciato solo a gestire le varie crisi migratorie con una Siria che ha occupato il nord fino a poco tempo fa, no, e da lì si sono create le due coalizioni, prosiriana e antisiriana, che prescindono dalle sette religiose, nel senso che ci sono cristiani, sciiti, sunniti, sia da una parte che dall'altra. Quindi c'è un po' questa frammentazione. E Zbollah non ha interesse a un escalation, perché si farebbe dei nemici interni, a partire dai drusi, a partire da una parte consistente di maroniti, se non tutti, agli armeni, i siriaci, i sunniti, insomma non ha esattamente interesse perché ci sia un escalation. Si può dire che vogliono una guerra di media intensità, un po' come l'Iran che ha detto noi non vogliamo un escalation, però vogliamo rispondere? Potremmo usare questa definizione. È sicuramente una guerra, però vedo comunque dei contrattacchi, quanto meno a partire dal sud del Libano, se non altro non da escalation, ecco, perché il Paese non lo reggerebbe. E soprattutto ci sarebbe una situazione politica interna, ricordiamo che ancora non hanno eletto il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio di Interim, perché c'è un equilibrio quasi effetto domino tra le varie confessioni, che adesso vede primeggiare lo speaker del Parlamento che è lì da 30 anni, e che è Navi Berri, del partito di Amal, sciita, quindi è l'altro partito sciita oltre a Zbollah. Quindi, la risposta dell'Iran da dove arriverà? Non lo so, io però dubito fortemente che useranno il proxy libanese per dare una risposta. Posso sbagliarmi? È solo un'opinione personale. Abbiamo visto che l'altra volta, quando c'è stata una risposta consistente, bloccata poi dalle difese aeree israeliane, mi è sembrata quasi più una guerra economica, cioè della serie mi faccio spendere denaro in munizioni, è partita direttamente dall'Iran. Quindi, vedo più probabile una risposta da un altro territorio, che sia lo Yemen, che sia l'Iran, che siano attacchi al di fuori di questi territori, piuttosto che un attacco dal sud del Libano. Quanto meno, non credo che sia nell'interesse di Zbollah e del suo segretario generale, che ogni volta che lancia un messaggio, usa una retorica belligerante, ma poi alla fine, come dire, la montagna partorisce il topolino, invitando quasi alla calma. Zbollah quanto è dipendente dall'Iran in percentuale? 90%? 80%? Secondo me siamo quasi al 100% in termini finanziari, di armamenti, tanto che si sono risvegliate anche delle milizie cristiane in Libano, che sabotano la linea di rifornimento di Zbollah, bloccano i camion di armi e le consegnano l'esercito regolare libanese. La Turchia è riuscita a penetrare il Libano, perché abbiamo visto che c'è stata una minaccia di Erdogan, che ho visto ha bloccato anche Instagram nel suo paese, che vorrebbe invadere Israele. Allora, se la geografia non è un'opinione, la Turchia e Israele non confinano. Considerando il fatto che la Turchia non ha delle grosse truppe da sbarco, almeno io non mi ricordo sbarchi turchi da qualche parte, pensa che sceglieranno la carta di penetrare nel Libano o non c'è questa opzione? Credo che sia una minaccia giusto per retorica interna, perché la Turchia non è mai penetrata in Libano. ci provarono, quantomeno politicamente, dopo il Beirut Blast, quindi dopo l'esposizione del porto. C'è una parte... Nel 2021-22, quando è stato? 22? Ora non mi ricordo più, sinceramente. Il 4 agosto del... perché ricordo, facemmo noi in un'intervista qui nel Cortino. Sì, esatto. È stato celebrato qualche giorno fa il... Secondo o terzo anniversario? Sì, vediamo un attimo. Sì, perché, insomma, le date hanno anche un'allora... Sì, 2020. Ah, 2020. 2020. E quindi la Turchia, se vogliamo, ha penetrato un po' alcune fasce sunnite della popolazione, ma in realtà non fa presa, secondo me anche per ragioni storiche e culturali, perché nel Libano ha ottenuto la sua indipendenza, certo con il sex epic agreement, ma dopo la caduta dell'impero ottomano. Peraltro, in un periodo in cui il Libano ha accolto profughi armeni, greci, assieri, cristiani, scappati proprio dall'impero ottomano dopo la furia dei giovani turchi che provocarono genocidi degli armeni, assieri, greci, e persecuzioni dei cristiani in Genepra. Perché il Libano, paese montuoso, ha accolto sempre chi fuggiva, a partire dalla caduta di Costantinopoli in poi. Quindi c'è un po' questa cultura e in più c'è una cultura araba. Quindi non c'è la carta del panturchismo, che invece la Turchia può giocarsi sul Kazakhstan, sul Turkmenistan, sulla Azerbaijan, su quelle geografie, cosa che infatti sta avvenendo. Invece gli arabi sono altri tipi di popolazione. Ha fatto bene, italiani, a dire agli italiani di lasciare il paese? Sicuramente è stato un atteggiamento prudenziale. Le dico per esperienza, il Libano ci sono stato tante volte. Spesso mi hanno consigliato di lasciare il paese, se poi ho rivelato non necessario. Dopodiché... Non abbiamo la palla di vetro. Non abbiamo la palla di vetro e vedo che i voli sono stati sostanzialmente sospesi sia per Beirut ma anche per Tel Aviv. Quindi di sicuro c'è il timore di una escalation o comunque di risposte che possano bloccare lo spazio aereo. Va bene, ci auguriamo che non succeda nulla di gravissimo. Io la ringrazio. Grazie come sempre a Giulio Centemero della Lega. Grazie a Radio Radicale.